Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qua oggi con Hitman Absolution e andiamo subito a fare la missione Rosewood Sto coro da chiesa ragazzi Eccoci qua E' così triste qui senza i bambini Mi sarebbe piaciuto andare in gita con loro Perfetto, si inizia E tu fortunatamente sei qui, Victoria sta male Un attimo prima stava bene Salviamola subito La sua collana? La collana? Beh è sul cassettone, ha rotto il gancio ma l'ho aggiustato E' per quello Ora si riprende Qualcuno ha chiesto di lei? No Devo portare via Victoria ora Il posto più sicuro dell'edificio? Oh, lo scantinato, lo scantinato Scendi subito lì, ti raggiungerò con Vittoria Sì, sì, certo Oh santo cielo Perfetto Andiamo bella Grazie Non c'è di che Come avevi detto Ero così, così spaventata Non ti preoccupare va C'è la gente 47 per te Ok Erano colpi di pistola Parla piano Ho promesso a Diana che ti avrei tenuto al sicuro Vai Bomber Salvala Ok Attenzione Perfetto Cos'è stata? Non muoverti Ottimo Cosa succede ragazzi? Oddio, due nemici Uno, due Eccolo lì Mamma mia Via, via Ok Forza Ok Bene Andiamo sotto Va Mi sembrava strano Devo riattivare la corrente Sorella Mary sta aspettando nel seminterrato Vi raggiungo lì Ecco Andiamo Andiamo su va Qua c'è già Eccoli qui Piano Dobbiamo trovare i fusibili Ragazzi Stiamo facendo a pezzi il posto Ancora niente Non preoccuparti Ok Perfetto Usiamo subito il suo travestimento Ragazzi E occultiamolo qua dentro Ok Mamma mia Che strage hanno fatto Piano Perfetto Qui c'è una siringa intanto Ok E qui il primo fusibile Ottimo Ho scoperto qualcosa Non so un cazzo Sembrerebbe Di Occhio 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 Via Via Giù di qua Attiviamo subito il check point Il check point Il check point L'ho detto Ok Tanto qua c'è il libro E via Andiamo subito qua sotto Ragazzi Perfetto Aspettiamo Aspettiamo che questa guardia Giri l'angolo E usciamo Perfetto Perfetto Qui c'è già il secondo fusibile ragazzi Proviamo subito ad andare a prendere il terzo Vediamo se riusciamo Ok Con calma Piano Ok Qui c'è già il terzo Nascondiamoci più un attimo Finchè non passa Quest'altra guardia Ok Ci sono tantissimi nemici Usiamo un bel po' del nostro istinto Per poter passare indisturbati Piano ragazzi Piano Ok Andiamo di qua Con calma Tappiamo la porta Ok Qui C'è il fusibile Perfetto Andiamo subito A riattivare L'energia elettrica Perfetto Posizioniamo tutti i fusibili Ok E tiriamo la leva Ottimo Fuso come un fusibile So Sorella Mary Chi Chi sei tu Davanti Qual è il problema Mi piace quando ti ribelli Forza Ribelli Ehi Wade Ne voglio un po' Anch'io Sta a sentire Cocco di papà Hai sventolato quel cosino In giro per tutto il giorno Vero? Sta zitto Wade Ti credi un vero duro Lenny? Eh? Un duro? Basta Avanti bello Sei un duro? Forza Fatti sotto campione Avanti amico Ok Ti faccio vedere io Eeeh Eeeh Sta zitta Troia Altrimenti Ti apro un buco in pancia Sentito gente Ci conviene fare spazio Lenny Pallemosci Avanti Sei una cosa Wade Vai Vai a Oh 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 Oddio Ma le mani sporche di sangue Wade Avete visto È proprio esplosa Come un melone Pesante Non posso crederci Beh ci penseranno gli adulti A ripulire Voi tenete gli occhi aperti Ottimo lavoro Lenny Ottimo lavoro Mamma mia Piano Piano Ok Dai la caccia a Wade Perfetto Proviamoci Bomber Andiamo a prenderlo Perfetto Doppia arma intanto Sporgenza Andiamo su Acco Acco Facciamoci Piano Perfetto Andiamo da qua Facciamo finta di niente Ragazzi Facciamo finta di niente Ottimo Vai Apriamo Eccolo lì Armiamoci subito Piano Potrebbero esserci altri nemici Proviamo ad andare di qua intanto Ecco va Giriamo la valvola E se la rigiro Cosa succede? Sono tutti qui eh ragazzi Allora Uno Due Tre Ecco qua Non male Stai ferma piccola troietta Eccolo Eccolo Spero che crepi Una morte lente e dolorosa Gran figlio di una cagna Tu pelatone Non provare a muoverti O le piazzù Le piazzù Proiettellere Cranio Non sto scherzando Wade Ecco che cosa succede Quando provi a fottere Non provare più a fottermi Ok ok Vai vai Vecchiaccio Cielo duro amico Perché cielo duro Ok E andiamo da Lenny Perfetto Non male Non male Non male Ottimo Io qua ragazzi Vi lascio Ci vediamo sicuramente Alla prossima missione E come al solito Vi ringrazio Per il vostro Gran supporto Bella ragazzi